Buongiorno, grazie, benvenuti ad un caffè con il sindaco di Carmignano, bentornato al sindaco Edoardo Prestanti, siamo al circolo Alci 11 giugno, partiamo questa nostra ormai consueta conversazione dalla salute, dall'ambulatorio riaperto a Bacchereto, ma che tra pochino aprirete anche appoggiare la marva. Sì, diciamo in questo momento il tema della salute e dei servizi sociosanitari è fondamentale, il nostro obiettivo è appunto quello di garantire una rete di servizi sociosanitari il più vicino possibile ai cittadini. Si parte da Bacchereto con la riapertura dell'ambulatorio, ma che nei nostri progetti diventerà la bottega della salute, quindi con tanti servizi sociosanitari in più a disposizione di tutti i cittadini. A breve abbiamo lavorato per spostare lo stesso servizio, per creare lo stesso servizio anche della frazione di Polce e la Malva, quindi avere una rete che permette la copertura dei grandi centri, Carmignano, Siano, Comiana, ma anche delle piccole frazioni. Salute che è un tema molto importante di questi tempi, ma si sposa molto bene con la questione dell'ambiente. Con la Proloco sono partite iniziative estive Carmignano Green, puntata all'avvio diversità e anche ad altro. Sì, diciamo, con la Proloco stiamo portando avanti dei progetti molto importanti sulla transizione ecologica e sul valore dell'agricoltura biologica, biodinamica e naturale. Partiamo con un mercatino organizzato appunto dalla Proloco con la collaborazione del Comune e di tutti gli agricoltori locali, un mercatino del contadino naturale alla pista rossa che si ripeterà ogni mensilità. Oltre a questo, insieme al gruppo d'acquisto solidale di Carmignano, il Gas Fico, abbiamo organizzato un insieme di iniziative che coinvolgono tutti, dai più piccoli alle varie associazioni del territorio, varie tematiche, tutte legate al mondo della natura, della sostenibilità, all'informazione e all'importanza della tutela dell'ambiente. Quindi tante iniziative, non ultima l'acquisto di un'auto ibrida da parte dei nostri vicili, la prima auto ecologica del Comune che abbiamo acquistato appunto per i nostri vicili che notoriamente sono il corpo che fa un numero maggiore di chilometri su tutto il territorio. Abbiamo parlato di salute ambiente, parliamo anche di legalità perché avete piantato due aranci in un giardino dedicato a Piera Tramuta e tra l'altro avete iniziative anche in corso con le scuole. Sì, il tema della legalità è un tema fondamentale. Con la scuola abbiamo iniziato un percorso proprio sulla legalità e sulla lotta contro tutte le mafie ormai da alcuni anni che ha coinvolto un po' tutte le istituzioni, ha coinvolto tutti i ragazzi, la dirigenza della scuola ma anche personalità importanti e sono distinte per la lotta contro la mafia e per la cultura della legalità. Abbiamo piantato due aranci, simbolo di Piera e Calogero Tramuta, due eroi del nostro territorio. Calogero, vittima della mafia, Piera che ha lottato tutta la vita per tenere viva la cultura della legalità sul nostro territorio e non solo. Quindi questa è la prima iniziativa alla quale abbiamo legato anche la distribuzione di libri che hanno come tema la cultura della legalità in tutte le scuole e diciamo questo percorso iniziato alcuni anni fa porta già dei risultati. Al premio nazionale sui fumetti contro la mafia delle nostre classi, del nostro territorio si sono distinte vincendo il premio nazionale. Un'iniziativa che è partita dal confronto con la scuola di San Giuseppe Iato e della storia tragica del piccolo Giuseppe Di Matteo che i nostri ragazzi hanno saputo trasformare in un fumetto che è un monito sul tema della legalità e della lotta contro tutte le mafie. Il premio sono 700 partecipanti, 700 classi partecipanti. Esatto, un premio che non è un qualcosa di scontato, il fatto che i nostri ragazzi hanno vinto su una platea di 700 concorrenti la dice lunga su quanto sia importante questo premio ma soprattutto su come questo lavoro, questo piccolo seme che abbiamo piantato qualche anno fa sta iniziando a germogliare e a portare i primi frutti. Bene, con questo noi chiudiamo questo nostro appuntamento, ringraziamo ancora una volta il sindaco prestanti e sempre col sindaco ci rivedremo a un prossimo caffè da Carmignano. Grazie.